Riunione operativa a Palazzo San Giorgio tra i funzionari del Ministero per la Semplificazione della Pubblica Amministrazione e i funzionari della città metropolitana. A supervisionare il vertice il Ministro Marianna Amadia e il Sindaco Giuseppe Falcomatà. L'incontro si inserisce nel calendario delle visite mirate che il Ministero ha programmato nelle città metropolitane e che ha avuto inizio a Bari e ha visto Reggio come seconda tappa. I vari tavoli tematici hanno affrontato i temi legati alla gestione del personale, alle norme sulla trasparenza, alla riduzione delle partecipate e all'applicazione delle innovazioni digitali e di semplificazione burocratica. A margine della riunione tecnica è inevitabile un passaggio politico del Ministro Amadia sulla fase che stanno vivendo il PD e il suo leader Renzi. Renzi è il segretario del nostro partito appena scelto da milioni di persone che sono andate appositamente in una giornata a sceglierlo e quindi mi pare che sia un dibattito pretestuale Il Ministro però ha poi confermato la sua disapprovazione per eventuali larghe intese con Berlusconi, dando la sua preferenza a Pisapia. La direzione ci deve essere, quindi come dirà la direzione, ascolteremo il segretario e poi la discussione che ci sarà. L'ho detto in modo molto chiaro nell'intervista, credo, non ho dubbi. Pisapia. Riccardo Tripepi per la CNews24 Riccardo Tripepi per la CNews24